musica 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 e benvenuti a tutti e benvenuti qui sul mio canale sono Alec e benvenuti a 7 e quest'oggi siamo qui sul terzo episodio di youtubers life però questo video sta andando veramente bene nel frattempo io lo mando a mangiare perchè sta veramente male con il cibo e qui che cosa abbiamo? saluta al santo, avvertimento, saluto figo sblocchiamo saluto figo dai abbiamo sblocato una nuova carta buono 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 sentite come suona ok dopo di che resto vediamo cosa ci fa fare oggetti sblocati siamo al livello successivo siamo al livello 4 ottimo ora ricordo quando sono arrivato alla mia nuova camera ho deciso di decorarla clicca sul pc per fare acquisti e clicca sul negozio di decorazioni ok però perchè allora dobbiamo andare a spendere soldi per queste cose quando dobbiamo andare in giro allora andiamo a idea idea era ed è il miglior negozio per comprare decorazioni ma a volte mi dimentico ancora di cliccare conferma nel mio carello ahahah con alcuni oggetti posso sbloccare delle carte devo assolutamente trovarle ciao adesso vorrei invitarti al cinema questa sera non vuoi lamentare le tue aspettative ma ho sentito il film è magnifico ti andrebbe... vabbè andiamo al cinema con questa ragazza si sa mai regà siamo pure rimolchiati allora acquisti acquisti ragazzi sinceramente non so che cosa comprarci allora faccio ancora un muro con poster poster big kill boh dai compriamo il poster compriamo questo poster qui andiamo ad acquistare il poster sarà libero immediatamente sarà disponibile ok allora nel frattempo che vestiti perché ah per andare all'evento allora andiamo così qual'è il problema poi all'evento così andiamo mamma ecco qui il poster che si va a mettere lì la mamma qui voleva parlare ma non ci interessa perché oggi è cinema oggi è tempo di cinema si esce ragazzi si esce il tempo di cinema anche se un po' abbiamo gli esami ma studieremo dopo mamma mia regà che spettacolo cioè possiamo anche andare in giro vai parliamo con zoi ah zoi dimmi tutto vedi diminuirò lo zoom vabbè zoi ciao io andrei un attimino in giro ma qua posso passare scusi scusi posa per la stampa ma perché possiamo potremmo pure posare per la stampa e dai e fa queste foto chicco e falla sta foto ok hai posato fin troppo puoi uscire nessuno ti conosce vabbè me l'ha dato c'è un bello entrare nella hall mamma mia ragazzi però certo era meglio magari se intanto mettiamo in upload un video però va bene così dai ci siamo presi un attimino una giornatina di relax non ci sono molte persone dove dove dovremmo sederci Alessio allora guarda io direi di dai mettiamosi qua dai mi metto qua tu mettiti qua a me che la prima fila a me non mi piace quindi se mettiamo qua dietro siamo belli ah ragazzi però mi fa vedere il firma bene non posso vedere il firma ok comunque dura 50 secondi 49 secondi 48 47 46 ok allora vediamo anche un pochino in giro comunque è veramente ah cosa abbiamo sbloccato un'altra carta avvertimento intro musicale io sbloccherò intro musicale l'intro musicale è veramente cioè potrebbe esserci d'aiuto l'intro musicale e poi abbiamo questo qui ah ok di L4 però sbloccherò anche altre cose comunque abbiamo adesso abbiamo 15 di idee quindi possiamo aumentare anche molto di più il nostro fase di editing di video con 15 idee siamo a 2.053 iscritti e 10.433 visualizzazioni quindi per essere comunque per stare all'inizio della nostra carriera youtuberiana siamo veramente ad un buon punto comunque con 2.000 iscritti poi raga siamo pure rimorchiati questa joy volete mettere raga cioè in pochissimo tempo abbiamo fatto una marea di cose siamo pure già a livello 4 ottimo ah il final film ok abbastanza me ne sto andando ok ok ci siamo andati al cinema da quello che ho capito ok però questo è una giornata diversa allora da questo momento sono in grado di andare a vedere film ogni volta che ne ho voglia invitando chiunque nella mia lista contatti i film disponibili sono inseriti nell'agenda del mio telefono allora qui apriamo il pacco del poster che prima non ce l'aveva salvato e ehm immediatamente visto che comunque l'esame si avvicina tra due geni abbiamo gli esami io direi di andare a studiare un attimino vai a studiare perchè gli esami sono vicini e domani sarà notte prima degli esami domani sarà quindi vai a studiare ciao ti piace la tua compagnia telefonica attuale? sono sicura di no mobifonti offre una connessione internet più veloce devi solo pagare 20 dollari per averla ma vada per il momento sta bene così ma la tua connessione rimane sempre uguale si vabbè lo sapevo questa cosa infatti è per quello che facciamo così allora ragazzi siccome eh s'andà ah la 49, 25, 16 ehm raga io fare così andiamoci a comprare un nuovo gioco si andiamo qui su Amazon un Amazon bellissimo questo qui ragazzi se questo dovrebbe essere bello acquistiamo se ti non lo vuoi acquistare questo è tipo dei draghi e andiamo subito a registrarci il nostro primo gameplay ah no che andiamo a registrarci se non ci arriva il gioco non possiamo fare nulla ciao ciao sono tuo padre oh scusa appartamento sbagliato vedo che ho un sacco di cose qui vorresti darmi i poster così posso darlo a mio figlio eh no scusa è mio eh scusa eh tu dove ne andate a te per potermi io ah vabbè la gente ah andiamo a fare un nuovo video perchè comunque è un pochino che non facciamo video ok e facciamo un'anteprima di questo gioco prima impressione dai facciamo il nostro primo così continua prima impressione basta basta in hashtag 1 prima impressione vai prossimo e andiamo a creare il nostro video vai allora saluto con la mano all'inizio che stiamo cercando a registrare abbiamo tempo prima di iniziare un gioco allora prima di iniziare il gioco farei un commento serio visto che comunque stiamo facendo un un vlog e poi il gioco si blocca vabbè il gioco si blocca facciamo un commento cantando dai prossimo facciamo così così e così mamma mia ragazzi questo è il video perfetto un altro video perfetto abbiamo fatto dopodichè mettiamo aggiusta il colore e aggiungi il titolo però aspettate invece di aggiungi giusta il colore io farei di regola al fuoco regolerei il fuoco e aggiungerei il titolo vai così vediamo ma abbiamo 46 interesse però 66 contenuti 94 di editing e 30 di qualità video ci siamo veramente ci abbiamo veramente veramente dato sotto ok andiamo a pubblicare questo video nel frattempo che va nell'editing vi aiutare di dormire perchè qua veramente andiamo a stirare ah oggi avevamo gli esami oggi avevamo gli esami quindi non so veramente come siano andati non chiedetemi come siano andati ecco qui stanno andando adesso agli esami ottimo quindi vai a fare questi esami il voto del testo di questo video è come B- cioè ho studiato un voto B- però dai vabbè alla fine neanche male dai B- allora salve tu sei adesso ho sentito che registri il bel video puoi registrare un video di gioco e caricarlo? ti spedirò il gioco va bene ok cioè adesso ho sentito significa molto per me perchè un po' ho registrato per caricare i video vabbè ci danno montate i dollari ottimo una B- non è male ma sono sicuro che puoi fare di meglio comunque sei sulla giusta strada ecco di 25 dollari grazie ma te l'hai veramente sprecata eh ma cioè veramente il 28 febbraio abbiamo gli altri esami bisognerà andare a studiare e qui invece il Game Award compra il biglietto per il momento non lo posso comprare quando è questo? il 10 febbraio ok allora dobbiamo fare un attimino questi soldi e li faremo sicuramente con questo gioco qui mmm allora nuovo ordine disponibile allora qua prendiamo l'esperienza anche qui per le visualizzazioni anche qui altra esperienza qui abbiamo sbloccato due carte allora saluti non santi saluti semplici critica divertente saluti semplici e poi e poi altra carta saluti non santi avvertimento commento corto ehm avvertimento ok abbiamo sbloccato queste nuove carte tanto qui cresce e allora nel frattempo ci andiamo a preparare per gli esami quindi andiamo a studiare perchè comunque è vero che mancano comunque 20 28 giorni ai prossimi esami però dobbiamo comunque prepararci e quindi studiare sennò poi la mamma ci scassa un attimino i cosiddetti gameplay di counter strike ok prima del 7 febbraio non ti preoccupare che li vado a fare sicuramente ok allora vediamo un attimino cosa possiamo fare innanzitutto andiamo a mangiare perchè ci sta veramente stirando almeno aumentiamo anche le idee mangiando è appena finito di mangiare che è il solitore di andarci dubbio e risultare il gameplay per quella ragazza che ce l'ha chiesto ok morta risultato ragazzi ha fatto veramente il delirio più di 2000 visualizzazioni e 337 iscritti ci ha portato vabbè i commenti vabbè i commenti lasciamo perdere perchè tanto tutti haters adesso perchè piano piano crescere tutti haters l'obiettivo è vai alla convention io ci provo ad andare alla convention sicuramente ci riuscirò allora siccome l'altro video è andato direi che è andarci a registrare il video per quella ragazza che ce l'aveva chiesto che era questo qua di gioco facciamo un gameplay eeeh si tutto così tanto possiamo fare tutto così continua counter stride gameplay 1 mettiamolo così in inglese ok andiamo subito qui nell'editing cioè nell'area andiamo a registrare il video saluta con la mano perchè stiamo insieme a registrare poi cosa abbiamo qui sommario del gioco allora sommario del gioco possiamo fare un eeeh mettiamo allora andiamo a mettere mmm eh alla questo eeeh poi possiamo mettere questo e questo così si perchè se io sposto questo si si così e poi facciamolo eeeh altrimenti ci sta rompendo il computer allora metterei allora aggiungiamo il titolo e metterei un regolo al fuoco no mettere proprio aggiusta il colore vai con l'editing 66 che interessa infatti ottimo oh mamma mia record ragazzi stiamo facendo veramente le buche stiamo facendo le buche qui su youtube ok mamma mia ragazzola pubblichiamo questo video dovrebbe andare veramente da panico intanto la mamma qui viene ecco c'è estrella non la studiava quasi niente ma come la studiava quasi niente tu ma non mi rompe per favore ripariamo il computer 20 dollari ci costa questo scherzetto e qui abbiamo un punto allora il punto in più di iscritti conviene le prime 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 ok no io direi di questo qua ok allora venimi ad aggiustare il computer per spiacere dai dai veloce veloce aggiustami questo computer bravo aggiusta che adesso che mi aggiusti il computer è aggiustato bravissimo ciao bello ma è diventato decato lui vai andiamo a studiare e dopo devi farlo dormire perchè sennò veramente sta messo malissimo poraccio stato il video in uploading sta uploadando allora bene grazie l'hai fatto perfettamente ora vediamo se il video è un successo grazie alessio prego prego nel frattempo vai a dormire perchè sennò ci mori e allora data allora raga io ho all'esame allora del lord compra il bietto no raga io non ci voglio andare in mezzo firma rumbo ma neanche raga perchè torna al cinema non me va allora ok prepara per l'esame comunque stiamo andando non benissimo ma non c'è problema nel frattempo comunque io devo andare a ristudiare ancora dobbiamo darci pesantemente giù con lo studio perchè comunque più studiamo e più tempo abbiamo per fare video ok adesso il video quello lì che ci ha chiesto di fare la nostra amica sta andando veramente benissimo perchè siamo già a 6.000 quasi a 7.000 visual mi sta andando veramente 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 bene allora con lo studio dovremmo essere anche lì abbastanza bene stiamo andando veramente bene allora io direi di andarci ad acquistare il biglietto si allora andiamo a acquistare il biglietto ora che abbiamo i soldi ok abbiamo acquistato il biglietto per il game award che ci costa 100 ed è fra però non lo so il 10 febbraio quindi fra 4 giorni lo abbiamo quindi ottimo 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 e qui sblocchiamo insieme un copyright i crediti finali commento cosa la crediti finali ok allora dovremmo mangiare in teoria però nel frattempo voglio andare a vedere un attimino se possiamo acquistare qualcosina vorrei farmi veramente il computer nuovo magari una console però più che la console vorrei fare un bel computer nuovo che dovrebbe costare però parecchio andiamo a vedere pure le cuffie magari ci potremmo fare nuove eh allora no computer nuovo no raga i pacchetti di heading ebbè ebbè ormai abbiamo solo questi magari vediamo qualche gioco nuovo non c'è veramente niente di gioco nuovo di gioco non c'è veramente niente però uno che sta andando bene è Counter Strike che ho già acquistato quindi per il momento per il momento niente dai quindi almeno che non vogliamo comprarci un nuovo televisore no però 90 dollari non ce l'abbiamo eh non so magari le cuffie ragazzuoli le cuffie o le cuffie è comunque una bella tastiera nuova eh dai vediamo perché comunque visto che stiamo andando lì alla fiera magari lì hanno qualcosa in più vai a mangiare prima che me stiri nel frattempo qua rischettiamo l'esperienza che abbiamo preso ok hai sbloccato un nuovo tipo di video incominciavo ad avere alcuni fan e sentivo il bisogno di condividere alcuni momenti con loro mettermi davanti alla videocamera e condividere i miei pensieri posso farlo ad ogni evento semplicemente cliccando sul mio personaggio ok tu 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 ti fa pure una cantuccina questa avete visto ok allora ha mangiato ha mangiato notifiche e niente notifiche per il momento non abbiamo veramente nulla comunque i giochi e invece no abbiamo una notifica molto importante è uscito il nuovo gioco quindi io direi tubilo andiamo a comprarlo che però perché non ce lo da che cosa non è più eccolo qui eccolo qui allora i veni votati ci dice infatti proprio questo qui 30 dollari ci viene a costare allora andiamolo a comprare no 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 che è shit comprami sto gioco veloce e ci andiamo ah no dobbiamo aspettare comunque che arrivi vabbè comunque non è soli io direi che il video d'oggi può finire qua se il video vi è piaciuto come sempre ti bello nel suo commentare condividere iscrivetevi al canale posto il link sotto la descrizione faccio facebook e san gaming dici like se volete questa serie continui nella prossima settimana il video d'oggi può finire qua noi ci vediamo al prossimo video e bella rica ciao 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 ciao